Dunque una puntata di Polifemo particolarmente ricca e ovviamente non può mancare l'aspetto politico e quindi parleremo con Gianni Liviano un po' di tutta la sua vicenda che ha portato all'abbandono della carica sessorile in Regione, ma tanti riferimenti anche alla realtà di Taranto, alla Regione Puglia, all'amministrazione comunale. E quindi un grazie a Gianni Liviano per aver aderito al nostro invito. E allora non ci resta che metterci comodi in poltrona, il telecomando posizionato sul 93 ed eccoci con Polifemo, l'occhio di Abbate, l'informazione libera della città. Buona visione.